Al Guzzanti giornalista e Al Guzzanti mi sembra ex del giornale, non ci scrivi più? Hai parlato con Feltri? No, no, non ho parlato con Feltri, il quale dopo aver detto su di me delle cose che non ho... Non piacevoli? Non piacevoli, non mi ha mai telefonato, io non... Tu non hai più scritto insomma? Sono lì in attesa, no, io non ho più scritto per il giornale e vedremo insomma. E Al Guzzanti insomma che comunque del mondo del giornalismo è stata sicuramente una parte importante nella storia di questi ultimi 30 anni, ci vai alla manifestazione del 19, ti interessa? La trovi immotivata? Sei sospettoso? No, io della manifestazione, di quella manifestazione ho apprezzato la parte che riguarda le donne, di cui ha scritto pure concitare Gregorio, perché io sono molto... Una delle cose che dal punto di vista etico proprio mi sta come un malloppo sullo stomaco della mignotocrazia è lo scempio che è stato fatto in Italia dal perlusconismo, non tanto dalle questioni della Dario, di Papi, ma proprio di questa umiliazione definitiva della donna in Italia. Io che sono parecchio più vecchio di te ho vissuto negli anni 70 e 80 come tutti quelli di sinistra il femminismo in una maniera appassionata, le nostre compagne di allora erano femministe, sembrava che non si potesse più recedere da alcune conquiste minime di dignità, di decoro di allora, invece purtroppo siamo finiti appunto nella mignotocrazia e allora questa parte mi interessa di più. Le altre io sono d'accordo con te, le guardo con occhio scettico e come si guarda una partita a carte, però succedono delle cose che sono veramente straordinarie, insomma questa della omissione di due trasmissioni per privilegiare, che se ne dica anche se il bravo conduttore di Matrix garantisce il nostro Vinci. Il soldato Alessio Vinci. Il soldato Alessio Vinci che è un uomo che mi aveva stimato molto, sì poi lui è un americano per niente, non ha manco mai vissuto in America, lui è venuto a Bruxelles, insomma ha raccontato la sua storia. Però insomma ci troviamo di fronte a sto fatto che siccome Berlusconi deve andare a porta a porta a mostrare quanto è stato bravo nel terremoto dell'Abruzzo, Allora tutti devono tacere perché c'è la messa solenne, quindi tutti devono andare alla messa solenne, beh questo è impensabile, non è più inaccettabile, è comico. Ecco, allora forse... Una particella comica, Berlusconi miglior premio negli ultimi 150 anni, autodefinito se diciamo, quando hai pensato a Berlusconi sopra Cavour e De Gasperi... Beh vabbè lì siamo al comodo. Forse Corrado, Sabina poteva farlo, uno sketch del genere, no? No ma Berlusconi sa fare degli sketch su se stesso che sono inarrivabili, cioè il migliore imitatore di Berlusconi è Berlusconi, insomma, Gli altri, me compreso, che ci dilettiamo, non arriviamo... Ma figlia non l'avrebbe immaginata una battuta così? Beh bisogna chiederlo a lei, lei immagina una battuta, magari cose più, ancora più... Questa che lui è superiore in qualità a De Gasperi e Cavour, beh insomma, oppure a Giolitti, lui... D'altra parte lui la storia non la sa, insomma, questo lo assolve, perché Berlusconi, il poveretto, è talmente impegnato nella politica del fare che non concepisce la politica del pensare, almeno ancora la politica del leggere. Quindi lui vive in un suo iperuraneo tutto mio personale, nel quale sono certamente il migliore da sempre e per sempre. E quando i comunisti finalmente lo capiranno, allora non sarà mai troppo tardi o il contrario, adesso non ricordo perfettamente, e sarebbe come un volere, perché lui poi ha questa abilità di sostantivizzare i verbi, anticipandoli con una serie di non solo aggettivi ma anche articoli che li rendono poi inaccessibili al suo stesso pensiero che si avvita e non si autocomprende più. E questo è un problema che lui ha non solo con la storia ma credo anche un po' con la sintassi del pensiero. Quindi questo lo spiega in un certo senso. Grazie a Paolo Cuzzanti, chiudiamo con Leonora Bison che ci scrive Ciao Mario, finalmente sei tornato con il Finimondo. Da quando Paolo Cuzzanti è tornato in sé lo ammiro tantissimo. Beccati questa. Leonora da Padova. Ciao Leonora, se non avessi la vecchia età che ciò... Chissà che succederebbe. Chissà che succederebbe. Questa prima puntata di Finimondo finisce qui, spero vi siate interessati e divertiti. Grazie a Paolo Cuzzanti, grazie ai nostri telespettatori. Noi chiudiamo Finimondo per andare nell'ultima parte del Morning Show. Restate su Red.